Ancora emergenza cinghiali nel Sagno e dopo le manifestazioni in piazza dello scorso anno la Col di Retti di Benevento torna a chiedere interventi che possano mettere fine al problema che anche quest'estate sta facendo registrare danni ai raccolti a partire dai cereali ma il timore oggi è che gli animali possano compromettere anche la prossima vendemmia. È una vera emergenza, purtroppo ne stiamo parlando da molti anni ma mai come in questa fase secondo me ci vuole un intervento d'urto perché tante sono le segnalazioni che ci arrivano da parte delle nostre aziende tanti sono stati i danni per i cereali coltori già bastava la siccità e quindi le carenze di rese in termini di produzione poi alimentate anche dalla presenza di cinghiale quindi lascio già immaginare gli effetti che sono stati nel campo della cereali coltura. Un altro problema, ci accingiamo alla campagna vitivinicola Il cinghiale è quello che sa accogliere la pigna d'uva che inizia a maturare quindi questo non giova per i nostri agricoltori. Ma non solo, oltre all'emergenza cinghiali per i cereali secondo la Col di Retti si aggiungerebbe anche il rischio speculazioni. Ci hanno pensato i cinghiali nel limitare le quantità di produzioni e assistiamo a queste ennesime forme speculative perché paradossalmente nel giro di 1, 2, 3 giorni il prezzo del grano da 54, 55 e balza 45.